Quinta di Champions League edizione 2011 al Derby Sports è l'ultima giornata della prima fase ai gironi oggi si delineano i passaggi l'officina Saturno si presenta in campo contro una delle favorite per il passaggio in Champions e fa la magia vince 1-0 contro la Baia del Re si qualifica quasi certamente per l'area Champions League appunto e ci presenta il migliore in campo di oggi il suo portiere che è Simone Cavaleri e facciamo raccontare a lui la partita Beh innanzitutto è stata una parità molto combattuta abbiamo sbagliato molto sotto porta loro hanno attaccato abbiamo visto che comunque era una squadra che pressava avevano due giocatori molto forti non ne so comunque il 7 e il 10 e ci hanno schiacciato per una decina di minuti poi a fine tempo siamo riusciti a segnare questo gol che ci ha dato la vittoria e il secondo tempo è stato tutto un susseguirsi di azioni nostre e loro quindi io mi sono avvicinato ad un certo punto della partita alla panchina della Baia per chiedere giusto il risultato loro mi hanno guardato con gli occhi attoniti e mi hanno detto ma chi cazzo è il loro portiere? allora io giro la domanda ma chi cazzo sei? un amico del nostro capitano Guido Caracciolo che mi ha dato l'opportunità di giocare questa partita con l'Officina Saturno e la prima partita è stata anche la migliore e ringrazio Caracciolo per questa opportunità allora ringraziamo anche noi Caracciolo per l'ottima prestazione dell'Officina Saturno di oggi e per la probabile qualificazione in Champions visto che non è ancora certa e per scaramanzia non facciamo domande e ci sentiamo settimana prossima grazie ciao ciao